I 500 milioni di euro di fondi che auspichiamo saranno inseriti nel prossimo decreto sostegni per la scuola saranno impiegati per la messa in sicurezza degli istituti. Dobbiamo garantire alla scuola, a tutte le scuole italiane, di poter programmare gli interventi necessari per la ripresa a settembre in totale sicurezza, riducendo quindi la possibilità di contrarre il virus in aula. C'è chi per un anno ha giocato con i banchi a rotelle, noi invece continuiamo a portare avanti le nostre proposte di buonsenso, le nostre proposte che sono concrete e vanno verso un percorso per migliorare la qualità degli istituti e per innalzare i livelli di sicurezza nelle scuole del nostro paese, perché i nostri alunni lo meritano, lo meritano gli insegnanti, lo merita il comparto scuola, quindi questo è il nostro grande auspicio. Grazie